PODY 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 ROPPENLOC Bella a tutti ragazzi, qui Enrici e oggi siamo qui con il 35esimo episodio della modalità carriera allenatore con il Bari E ragazzi prima di tutto scusatemi per l'assenza, però purtroppo ho avuto un sacco di impegni E altra cosa importantissima ragazzi volevo chiedervi se vi andava che portassi da prossimamente diciamo così anche una carriera con il PSG continuare questa col Bari magari portarla un po' più raramente rispetto a quella col PSG magari continuarla piano piano e tutto il resto però siccome faccio meno visuale via dicendo magari coinvolgere il pubblico con una carriera come quella col PSG potrebbe magari interessare un po' di più e via dicendo poi quella la farei anche sulla PlayStation e via dicendo questa qui la faccio su PC quindi ditemi un po' cosa ne pensate detto questo ragazzi oggi si va a giocare contro il Sassuolo vi ricordo che siamo praticamente primi in classifica questa è la formazione titolare sono tutti in forma quindi perché non schierare l'oro neve addirittura attenzione siamo a 14 dicembre e tra l'altro sto registrando anche oggi che è 14 dicembre incredibile questo quindi ragazzi direi che leggenda 4 minuti neve si va nel me si parte ragazzi come vedete stadio abbastanza innevato vediamo la formazione del Sassuolo King attenzione Shetov Muvalad Mazzitelli Magnanelli Sporvi interessante gestiamo bene palla ragazzi tanto Tiki Taka come siamo abituati a fare bello Barella devi metterla dentro attenzione ragazzi Selke prova a girarsi fuori gioco punizione dal limite interessante per il Sassuolo ragazzi mettiamo l'uomo qui se faccio in tempo mamma mia meno male ecco il passaggio verso Rajcevic Rajcevic vede Selke oddio si è inserito Selke Selke papera di consigli 1-0 mamma mia sempre lui sempre Selke che va a siglare il vantaggio per il nostro Bari che bomber lui che punta ad essere capo cannoniere inserimento perfetto ed è arrivato a 13 gol in campionato Devi Selke spettacolo puro dai Selke dai Selke nooo Selke ragazzi è in formissima ma quando si tratta di dribblare non ci siamo vai così vai così che è partito Selke ragazzi nooo vabbè Rajcevic devo dire è migliorato sul passaggio non l'ho allenato ma è migliorato mamma mia nacho Gil ragazzi ma che giocatore nacho Gil vai Selke ti ho detto di partire parti Selke madonna Selke sei uno scaldabagno quando fai queste cose oddio aveva quasi presa bello il passaggio per Gil Gil deve rientrare Gil Gil col tiro a giro 2-0 Bari gara quasi in cassaforte 37esimo 2-0 per noi segna nacho Gil il nostro trequartista e mamma mia che spettacolo al MAPE Stadium proviamo a sfruttare questo calcio d'angolo ragazzi vediamo se il nostro Devi Selke può metterla dentro no la palla è più lunga Bani 3-0 non me l'aspettavo Capitan Bani segna questo importantissimo gol ragazzi gara praticamente archiviata siamo 3-0 in casa del Sassuolo si vole in campionato aspettiamo solamente il fischio finale ragazzi cercando di non sbagliare questi passaggi si va bene così in uscita dai arbitro fischia la fine che ce la portiamo a casa questa partita e finisce così il match ragazzi 3-0 secco riusciamo a prendere i tre punti in casa del Sassuolo che sicuramente è facile non è mai anche se ultimamente non sta andando benissimo anche nella realtà questo Sassuolo però l'importante è aver preso i tre punti e ragazzi facciamoci gli allenamenti ho visto che siamo ancora primi però col Napoli se non sbaglio allora Ferrari è cresciuto ancora va bene va bene deve salire Navas Ferrari un bel 65 lo stiamo anche facendo giocare quindi è più facile che cresce vediamo in ufficio qui non stiamo seguendo i piani eh non società per piacere Oscar chiede più spazio ok allora qui dobbiamo avanzare un pochettino ragazzi siamo primi in classifica perfetto insieme al Napoli però conferenza stampa adesso abbiamo il Crotone ragazzi Crotone penso che ce lo possiamo anche simulare qui vabbè sì lo so che possiamo perdere qualche giocatore ma direi che possiamo assolutamente poi vedere dopo ok ragazzi in casa direi che ce la possiamo simulare col Crotone penso non ci debbano essere grossi problemi una formazione quella del Crotone che schiera Jabba che subito segna Minamino, Stoian, Barberis, Roden dai raga pareggiamola mannaggia a voi pensavo fosse semplice in casa col Crotone e invece no ammonito serche dai pareggiamola no non mi dite che la perdiamo proprio non ci posso credere non ci posso credere l'abbiamo perso 1-0 in casa col Crotone mannaggia la miseria vabbè il Napoli ha solamente pareggiato quindi siamo a un punto dal primo posto ma perché dico io perché se praticamente il Crotone va a poca roba vabbè peccato facciamo gli allenamenti vediamo un po' non sarà ancora nessuno ok ragazzi è arrivata un'offerta per Yocolano 470.000 euro accettiamo anche se c'è il bug che forse non va via allenare la nazionale non è il caso Berardi vuole andare via in prestito vediamo vediamo allora entriamo praticamente nel mercato di gennaio direi sì direi proprio di sì quindi qualche prestito va via interrompo perché dobbiamo vedere un po' allora Henderson è un po' preoccupante la situazione dubbi sul futuro di Alessandro Berardi vabbè stop trattative come al solito le secondo mensile squadra primavera arrivo giocatore con pre-contratto ok è arrivato Metz ragazzi è arrivato anche Merkel De Luca è stato ceduto in prestito anche a chi mi è tornato via perfetto quindi direi che possiamo cancellarci tutte queste email ragazzi ovviamente episodio un po' dedicato al mercato di gennaio anche se non abbiamo soldi alla fine però sono arrivati giocatori come Metz e Merkel che ora vi faccio vedere subito nel frattempo però voglio prima fare gli allenamenti vediamo se i giocatori della primavera salgono no ancora no andiamoci a vedere i nuovi giocatori ragazzi nella rosa attiva allora Metz è un 59 quindi vicinissimo al 60 che può crescere senza dubbio allora mettiamolo qui e poi logicamente Alexander Merkel è un 71 giocatore che mi piace un botto io lo vado a mettere già titolare qui per fargli gestire un po' la situazione 4 stelle di piede debole è un gran bel giocatore so benissimo che Kresic anche lui è ottimo però per il momento voglio utilizzare lui voglio anche divertirmi per giocare un po' con lui ovviamente i soldi non ci sono ragazzi budget trasferimenti zero quindi se arrivano offerte se riusciamo a vendere questi benedetti giocatori possiamo poi fare mercato altrimenti è un po' dura sapete che nel mercato di gennaio io tendo a simulare un po' le partite allora giocatore di rientro dal prestito ok Scalera è rientrato nazionale Iocolano è in scadenza e la squadra Salernitana gli ha offerto un precontratto ok mentre per Petriccione ragazzi un milione e due ci offrono io ragazzi lo andrei ad accettare dato che abbiamo preso Merkel vediamo se riusciamo a venderlo questo giocatore allora avanziamo questa ce la simuliamo ve l'ho detto nel mercato di gennaio io simulo sempre le partite ormai chi mi segue sa che è così allora vediamo un po' subito vantaggio Ferrari giocatore della primavera ragazzi attenzione attenzione pareggia Melano certo questa partita è un po' più difficile perché comunque siamo fuori casa contro un buon Elas Verona ah hanno anche Isaac che non è male segna Lee Soo Young 2 a 2 finisce buono Conti segna il pareggio il gol del pareggio quindi non è male allora facciamoci i consueti allenamenti siamo sempre lì ragazzi secondo posto in classifica che è già un sogno noi puntiamo a questo punto alla qualificazione alla Champions League che è proprio l'obiettivo che ho dato all'inizio di questa carriera ok anche il Brondby vuole Petriccioni io accetto anche il Brondby uno dei due una delle due squadre spero accetti l'offerta per fare un po' di mercato allora avanziamo siamo agli inizi di gennaio direi ora c'è l'Atalanta stop trattativa ragazzi però quando c'è questo bug che io non riesco a vendere ah almeno Petriccione lo abbiamo venduto abbiamo preso un milione praticamente per i budget trasferimenti perfetto ok 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 allora ora c'è l'Atalanta in casa come siamo messi in classifica siamo vabbè quarti ma abbiamo una partita in meno vediamo tutto il futuro è nelle mani di questa partita perché potremmo fare un bel passo avanti diciamo in classifica qui no non ci credo espulsione di serche non ci posso credere eravamo anche in vantaggio poi segna che sì vabbè ma che sfiga vediamo perdiamo 3 a 2 questa è sfiga ragazzi questa è assolutamente sfiga va bene allora la prossima me la gioco come partita perché non è possibile mannaggia queste simulazioni maledette qui non sale nessuno ok vediamo se ci hanno messo già i soldi 783 mila euro che è pochissimo io direi di avanzare un po' magari arriva qualche altra offerta ora c'è il benevento se non sbaglio precontratto per Henderson ah maledizione vabbè poi devo gestirmi un po' i contratti però non pensavo allora siamo vedete siamo dobbiamo giocare in casa del benevento siamo a 18 partite giocate 36 punti vabbè può succedere di tutto siamo a 3 punti dal primo posto questa ce la dobbiamo giocare ragazzi assolutamente siamo senza serche lo sapete allora vediamo gestione squadra io vorrei giocare lombardi come prima punta vi dico la verità proviamo Merkel anche se è un po' fuori forma però voglio provarlo sì dai direi che la formazione è perfetta quindi leggenda 4 minuti coperto si va nel me si comincia vediamo un po' la formazione del benevento che sono curioso di vedere se ha cambiato qualcosina Armenteros Ceravolo Parigini Fulton Cibsa Arribas Lucioni no niente di così eccezionale dobbiamo assolutamente vincere e portarci a casa i tre prima palla per il nostro Alexander Merkel vediamo se c'ha subito il piedino no volevo lanciare a dire la verità vai Merkel bello questo passaggio che era semplice il palone dentro chiude Arribas voglio provare questo giocatore questo Merkel che vedete si dà da fare perché secondo me può darci una grossa mano faccio mea colpa per le partite simulate ma io nel mercato di gennaio di solito le simulo sempre però questa volta mi è andata veramente molto male soprattutto col Crotone in casa lì non pensavo sinceramente di non portarmi a casa cioè almeno la vittoria in generale volevo però vabbè è andata così eccolo Merkel con le sue geometrie barella il pallone in mezzo Rajcevic per Lombardi Lombardi la tiene e fa salire Merkel vai Merkel tienila si appoggia dentro ancora Merkel il pallone per Lombardi il pallone messo dentro Rajcevic per Lombardi che l'ha spara alta però buona azione da parte del nostro Bari bravo Rajcevic che recupera il pallone Merkel il passaggio dentro si muove Lombardi 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 deve rientrare lo fa bene lo mette dentro il pallone ma niente da fare libera la difesa del Benevento che è molto molto arroccata magari come è giusto che sia siamo una grande direi e quindi dobbiamo assolutamente essere noi a spingere può andare Nacho Gil ragazzi può andare Nacho Gil deve mettere un buon cross vediamo chi arriva Conti viene rimpallata la palla c'è Merkel 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 col destro mamma mia che tiro che parata di Frara il nostro Merkel fa capire che c'è anche lui in campo barella cross dentro arriva Conti la palla resta lì spazza via la difesa del Benevento dai ragazzi vai Rajcevic aspetta che sale Barella vai Barella che sei un fenomeno se ne va Barella 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 prova a rientrare bello il corridoio vai Rajcevic vai Rajcevic tienila ok si appoggia dietro su Merkel Merkel lì ho visto qualcuno che cadeva in area di rigore forse era Lombardi Lombardi pallone allargato per Conti Conti può andare sul fondo Conti la mette dentro ancora un rimpallo e sarà calcio d'angolo dai ragazzi dai ragazzi facciamolo questo gol c'è Bani di testa uno specialista c'è Gil però eccolo Gil che può metterla dentro ancora Bani vede il passaggio dentro mamma mia questo Benevento peggio dell'Inter del Triplete tutti arroccati dietro dai ragazzi dai ragazzi facciamoci valere qui fa sportellate Rajcevic che durante la stagione devo dire mi ha sorpreso vedete è un combattente nato certo non ha 9 roll altissimo però si impegna un sacco ragazzi e siamo al 45esimo per il momento la gara non si sblocca però sapete che queste partite sono belle toste bisogna avere tanta pazienza e noi ci proveremo nel secondo tempo dai Ferrari dai Ferrari benissimo rientra Lombardi vede il pallone dentro buono lo scambio vai che si è inserito Lombardi non ci arriva c'è Cibsa tutti dietro ma noi dobbiamo assolutamente scalfire questa corazzata vai Barella mettila dentro ancora Conti la tiene Rajcevic Rajcevic che non riesce a far filtrare il pallone si così si così con lo scambio Rajcevic Rajcevic attende Lombardi può andare Lombardi 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 viene fermato all'ultimo qui forse commette fallo si ragazzi il Benevendo sta facendo un po' stesso palla alla Barcellona però qui riusciamo a recuperare palla vai che sei partito no maledizione l'avevo visto partire lì Rajcevic mamma mia sbaglia adesso il Benevento finalmente visto che avevano azzeccato tipo tipo 20 passaggi di fila ripartiamo ripartiamo noi con Ferrari palone dentro interviene Lejet ragazzi dobbiamo far uscire tutta la nostra tenacia tutta la nostra abilità perché sapete che non è assolutamente semplice eccolo Barrella a te Boer guardate i giocatori del Benevento quanta adrenalina hanno in campo veramente si impegnano un sacco però sarà calcio d'angolo ragazzi segnatevi che adesso potremmo fare gol Barrella pallone dentro eh lì c'era un mezzo fallo forse l'arbitro non lo ravvisa c'è Conti Conti deve allargare il gioco perfetto ragazzi azione interminabile Gil la mette dentro vai che c'è l'inserimento Lombardi no Lombardi che ti sei mangiato bello il recupero vai Rajcevic per Lombardi Lombardi anticipalo vai Lombardi mannaggia ma chi sono questi in difesa mannaggia a loro vai Merkel subito il passaggio dentro ancora ancora Conti vede il passaggio per Lombardi Lombardi devi metterti in proprio vai che c'è l'inserimento di Conti eh vabbè frara ma stai facendo sembri Andanovic sembri Buffon non è normale vai Gil che l'hai recuperata mettila dentro Lombardi per Conti che spara un destro però da rivedere palla fuori ci stiamo provando in tutti i modi si così vai Rajcevic vai Rajcevic che l'hai visto vai Lombardi mannaggia Lombardi un passaggio filtrante per Gil ti ho chiesto non ha giocato benissimo punta lui che è un esterno qui sbaglia tutto il benevento vai Lombardi mettila dietro va bene appoggiati appoggiati si conti si conti vai che l'hai visto deve solo calciare barella palo vabbè ma che sfiga ma che sfiga clamorosa forza ragazzi una delle ultime azioni stiamo dominando questo match bellissima questa palla vai Conti col tacco non è il momento dei tacchi Conti mannaggia a te e qui recupera il benevento ma tu vedi un po' se dopo aver dominato in questo modo non dobbiamo riuscire a vincere dai ragazzi ultimo a fondo probabilmente tienila Rajcevic non ti fa recuperare da Ivan oddio Rajcevic arbitro qua però mi ha praticamente abbattuto vabbè proviamo quest'ultima a fondo se riusciamo a recuperare subito palla ma probabilmente non sarà così e finisce il match 0 a 0 una partita che abbiamo stradominato maledizione maledizione voglio vedere le statistiche cioè no almeno abbiamo fatto 4-5 tiri in porta sono fasulle con le statistiche ma vabbè prendiamo solamente un punto vediamo questo punto dove ci porta in classifica se rimaniamo quarti o riusciamo quantomeno a salire beh vabbè siamo praticamente a 2 punti eh vabbè però Juve e Napoli hanno una partita in meno vabbè abbiamo noi abbiamo una partita in più diciamo che vabbè e forse è questa la classifica che ci meritiamo tutto sommato arriva un'offerta nuovo precontratto per Mattia Bari il nostro capitano devo vedere un po' ragazzi i contratti assolutamente allora facciamo una simulazione di questi allenamenti sale Ferrari Ferrari diventato un 66 Navas non sale mai mannaggia lui forse devo farlo giocare e farlo salire è l'unica occasione ragazzi che abbiamo allora avanziamo un po' vi ripeto il mercato se non arrivano alla fine offerte non è che posso fare granché ok Yocolano è arrivata un'offerta per più ragazzi 3 milioni e 6 allora io ragazzi sapete perché l'accetto ok è un 72 di 23 anni ci ho puntato parecchio però io so che con questi soldi 3 milioni e 6 più diciamo con 4 milioni posso portarmi a casa qualcosa di ancora meglio quindi vado ad accettare vediamo se lo vendiamo poi nelle ultime ore di mercato mi invento qualcosina intanto torna a disposizione Selke meno male ci è mancato un sacco contro il Benevento uh attenzione c'è l'Inter ragazzi c'è l'Inter che in classifica come sta messa l'Inter al nono posto ok vabbè con l'Inter giochiamo nella prossima nel prossimo episodio allora abbiamo venduto Piu ragazzi abbiamo venduto Piu offerta ritirata qui Yocolano Bani in partenza ok Henderson trattative interrotte Kresic qui togliamo queste email ragazzi vediamo quanto abbiamo di budget abbiamo 3 milioni e 3 ok ragazzi quindi nel prossimo episodio concludiamo il mercato in pratica proviamo a prendere qualcuno ora vediamo tanto Piu non lo stavo neanche utilizzando più di tanto abbiamo l'Inter nel prossimo episodio e poi le ultime ore di mercato la situazione si fa interessante vediamo un po' che cosa riusciamo a combinare per la fine della stagione e niente io direi che dovete lasciare tanti mi piace mi raccomando per questo episodio un'iscrizione al canale e noi ci vediamo in un prossimo video ciao ragazzi ciao